Il Raboso Piave è un utino autotono, il nostro qui di Treviso, e di solito le uve vengono vendemiate verso settembre, questo qui invece viene proprio a novembre, a metà novembre si vendemia questa uva, questa uva è un prodotto aspro, molto duro diciamo, e si doveva fare dei talli per verlo bene, tanto è vero che i francesi venivano a prenderlo, qui sulla cantina di Tezze di Piave, venivano a prenderlo per fare le basi del suo vino del champagne, abbiamo venduto diversi quintali di questo vino, poi si sono fatte anche delle bottiglie, è stato scoperto che dopo anni sono trovate delle bottiglie nascoste sulle cantine, messe a parte così, ed è stato scoperto che stappando queste bottiglie avevano qualcosa ancora di buono dopo 20-30 anni che sono state scoperte, e loro hanno detto questo vino è veramente da bottiglia, poi con tutte le tecnologie che ci sono adesso, si fa passire l'uva e viene fuori un prodotto eccezionale.